Perché sono così frequenti i disturbi alla tiroide? Cosa è utile comprendere a proposito di questa condizione che spesso viene diagnosticata tardi e ha tutti i caratteri di una malattia autoimmune? Come possiamo affrontarla bene e pensare anche di risolverla o merlomeno di attenuare un po' i sintomi? La verità è che dobbiamo, come al solito, andare un po' indietro, fare un passo indietro e vedere il quadro più generale, occupandoci di disturbi molto legati tra di loro e che invece normalmente non vengono affrontati come un unico grande problema. Quali sono questi disturbi? Disturbi del metabolismo, difficoltà a mantenere o a perdere il peso, mal di testa frequente e cronico, difficoltà a tenere sotto controllo il colesterolo e squilibri ormonali di vario genere. Il percorso di questi disturbi segue spesso un copione simile. Tutto sembra iniziare con una stanchezza e una sensazione di stress proprio insormontabile e da lì è facile arrivare a usare il cibo per tirarci su e per tentare di sedare questo sintomo veramente fastidioso, questa sensazione di non farcela a reggere i ritmi della vita. Poi subentra una difficoltà a concentrarci, proprio a fare le cose, accompagnata spesso da vari disturbi digestivi, reflusso, gonfiore, intestino irritabile, irregolarità, forte stitichezza. Segue poi la comparsa di disturbi verso alimenti e intolleranze varie, magari cose che avevamo mangiato fino ad allora e che invece improvvisamente ci danno fastidio e poi si affacciano i disturbi articolari. Il ciclo diventa problematico e se andiamo dal dottore iniziamo a sentire parole come ovaio policistico, endometriosi, insomma gli ormoni non sono più in equilibrio e se invece arriva la menopausa tutti i sintomi peggiorano rapidamente e drammaticamente. Alcuni di questi sintomi sono intermittenti, non li abbiamo sempre, altri invece tendono a diventare proprio cronici e il fatto che non riusciamo a vedere il filo conduttore che li lega e li consideriamo invece slegati e spesso casuali, ci impedisce di risolverli perché ognuno lo trattiamo come un mondo sé. Tutto invece è in realtà connesso ad un unico fenomeno, cioè all'infiammazione che come spiego nel mio metodo, proprio nella guida al metodo che trovi su www.thesautonapproach.it, parte tutto da uno squilibrio intestinale, poi diventa squilibrio del sistema metabolico, immunitario e ormonale, in un crescendo di sintomi e di condizioni di squilibrio sempre più croniche e sistemiche perché durano sempre e incominciano a interessare varie parti del nostro corpo, appunto spesso scollegate tra loro. Questa infiammazione è diventata una condizione così preoccupante da giustificare la comparsa di una nuova branca d'indagine medica che si occupa appunto proprio di questo, della infiammazione, si chiama la psico-neuro-endocrino-immunologia, PNEI in italiano, che lega stress, emozioni, immunità, umore, pensieri e ormoni, in un unico filo conduttore che ci fa ammalare. Ora, come si ammala la tiroide? Perché succede che a un certo punto della nostra vita la tiroide va in tilt? Nasce tutto da una condizione di forte stress sia mentale che fisico. Questa condizione di stress fa sì che il corpo entri in una modalità di allerta o di allarme, una sorta di codice rosso che porta il corpo ad adottare la modalità di sopravvivenza. Cos'è questa modalità? È una specie di sistema genetico che il nostro corpo ha connaturato per sopravvivere in caso di forte stress, di enormi difficoltà. È una modalità programmata dai nostri geni stessi, dall'inizio dei tempi e anche utilissima nel caso di dover affrontare delle enormi difficoltà come per esempio condizioni di pericolo, carestie, guerre, terribili cataclismi ambientali. Ci ha permesso di sopravvivere per migliaia di anni perché è proprio un sistema di protezione. Cosa accade? Che per un po' l'as è costituito da surrene, ipofisi e ipotalamo, comanda il corpo di reagire allo stress e alle enorme difficoltà che sta affrontando adottando questa speciale modalità funzionale ridotta che mette in pausa tutti i sistemi ritenuti non vitali, fino a che l'emergenza non finisce e il corpo può ripartire. Il problema è che questa condizione di stress oggi non è più un'emergenza, non è più una cosa che accade in un momento e poi passano le settimane, magari un mese e poi finisce, ma è una costante della nostra vita ed è strisciante, così il corpo vi entra e non riesce più ad uscirne anche per anni e giorno dopo giorno o vivere con questo sistema bloccato ci fa ammalare. Gli scienziati hanno raggruppato le cause principali, hanno elencato proprio le cause principali di questa condizione, perché entriamo in questa emergenza? Ce ne sono cinque cause fondamentali che poi sono alla base proprio della tiroide che inizia a non funzionare più bene. Condizioni di stress cronico emotivo e mentale, molto molto importanti, cibi squilibrati e poco nutrienti con un'esagerata quantità di zucchero che è troppo abbondante e completamente priva di grassi e di proteine, squilibrio della flora batterica intestinale, accumulo di tossine conseguenti a queste ultime due cose che abbiamo detto e delle infezioni nascoste soprattutto con presenza di parassiti. Ora, se queste sono le cause, come ne usciamo? Quale può essere un exit strategy per superare questa situazione? Innanzitutto dobbiamo riattivare la macchina con il sistema idoneo, cioè dobbiamo assolutamente uscire dall'infiammazione, quindi per fare questo ci vuole un detox, quello che io chiamo restart di 28 giorni, più in più dobbiamo aiutare la digestione e fare in modo che riparta così che possano ripartire la trasformazione del cibo all'assimilazione e l'eliminazione delle tossine. Riprogrammare i nostri ritmi di vita, soprattutto i ritmi sonno-veglia che vanno rimessi a posto perché altrimenti lo stress veramente diventa esagerato. uscendo dall'infiammazione è quello che accade che finalmente ricominciamo a riparare e rigenerare i tessuti soprattutto con l'aiuto del digiuno intermittente, quindi di questo alleggerimento della cena che ci permette finalmente di far funzionare bene il nostro sistema immunitario che durante la notte fa questo bel detox e elimina tutte le cellule usurate e tutte le cellule che sono andate in qualche modo fuori dal loro funzionamento abituale e questo immediatamente rigenera i tessuti e riporta in ordine tutto gli ormoni e di conseguenza anche la tiroide. Poi ci possono essere anche degli integratori adatti che possono aiutarci durante questo percorso. Infine riequilibrare gli ormoni in modo naturale, riattivando il lavoro delle surrenali e della tiroide e poi nutrire in profondità il corpo con cibi sani, gustosi ed equilibrati. Quindi è fondamentale se vogliamo davvero aiutare la tiroide e tutto il nostro corpo mente non vedere la tiroide o la tiroidite come un problema a sé, ma comprendere che va trattato come un problema che riguarda tutto il corpo, come un problema che riguarda il sistema immunitario e che dobbiamo riportare in ordine l'intestino e dobbiamo bilanciare bene i nutrienti. In poche parole non dobbiamo far altro che cambiare il nostro carburante quotidiano, migliorare il nostro stile di vita perché questa è l'unica soluzione per riportare la tiroide al suo funzionamento naturale e per uscire da questa emergenza che ci sta veramente cambiando la vita. Ciao.